Ben ritrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con D'Arte. Voi sapete che ogni settimana abbiamo la possibilità di conoscere un maestro d'arte che poi ci accompagnerà in questo spazio quotidiano fino a venerdì. Oggi ho l'onore di presentarvi e di avere insieme a me qui nel salotto della bottega Gollini di Imola il grande maestro Concetto Pozzati. Benvenuto maestro e un grazie di cuore per essere intervenuto insieme a noi nel nostro spazio quotidiano. Per me è un grande onore e diciamo anche un impegno doppio perché lei veramente rappresenta oggi un simbolo italiano nel mondo riguardo alla cultura e alla produzione artistica per quanto riguarda l'idea pop, che la pop art l'ha definita, l'ha caratterizzata nel corso della sua carriera e non solo perché poi dopo andremo a vedere quelle che sono state le sue fasi evolutive nel corso degli anni. Io sono molto contenta di averla qui. Lei sa che il nostro intento è quello di avvicinare le persone all'arte, cercare di parlare nel modo più semplice possibile, in modo da creare una cultura artistica anche nelle persone che effettivamente non masticano quotidianamente di questi argomenti. Cerchiamo di farlo appunto nel modo a questo punto più soft come si suol dire e ci piace anche molte volte raccontare di arte non solo analizzando le opere artistiche, quindi raccontando la poesia, lo stile, le idee che si nascondono dietro un'opera, ma anche conoscere veramente l'artista. Tante volte il maestro d'arte viene idealizzato, si pensa sempre a una figura quasi astratta che si nasconde dietro le opere, invece a noi piace conoscerlo, sapere un po' della sua vita, cosa ha fatto per poter arrivare a questi grandi traguardi come appunto è stata un po' la sua vita, insomma indagare e scoprire, un po' curiosare all'interno delle note della sua vita. Io so che lei è nato a Vaux, vecchia, quindi in provincia di Padova, non nel Veneto, per caso, perché lei comunque è figlio d'arte, del grande maestro d'arte Mario Pozzati, che era andato proprio in questo paese a ritirarsi, per produrre arte, per realizzare le proprie opere. Come è stata la sua infanzia nel Padovano? Insomma, lei comunque è stato lì, poi ha viaggiato moltissimo, Bologna, gli studi, Venezia, insomma, ma com'è la sua infanzia, come ricorda la sua infanzia, tra l'altro in una famiglia di grandi artisti, il padre Mario e lo zio Seppo, che poi andò a Parigi negli anni 50, proprio per fare grandi produzioni artistiche a livello proprio pubblicitario. Ma lei mi sta chiedendo già 50 anni della mia vita. Io sono nato a Vò, vecchio, in questa stupenda residenza che finalmente, dopo 70 anni, è stata restaurata, ma siamo dovuti scappare via, mio padre l'ha avuta per dieci anni, e io a sette anni sono scappato da Vò, perché questa enorme villa, residenza, divenne un campo di concentramento del Deberai. Quindi scappammo in montagna ad Asiago e io, sì, è vero, sono nato nel Veneto, anche se figlio di un comacchiese, mio padre, e di una bolognese, mia madre. Ma sono tornato a Bologna alla morte di mio padre, a 11 anni, e lì ho cominciato il mio peregrinaggio di studi e di cose. Studi che assolutamente mio padre non desiderava, quando io mi ricordo, ero piccolo, che io entrassi nel campo dell'arte, assolutamente. C'erano grandi terre, grandi possedimenti, grandi cose, e quindi diceva che io dovevo studiare semmai agraria, proprio per tentare di coltivare questo senso della terra. E ovviamente il ragazzo è sempre ribelle, quindi quando non ha poi una guida e una personalità così forte, come mio padre, di cui io ho conosciuto pochissimo, e ho amato moltissimo dai vent'anni in poi, eccetera, proprio leggendolo e studiandolo negli scritti rimasti, non dispersi, perché tutto è stato bruciato o disperso. E quindi da Bologna mi sono iscritto all'Istituto d'Arte per una pura curiosità e anche banalità sotto certi aspetti, ma si era iscritta, mia madre aveva iscritto a mia sorella più grande, mia sorella si chiama Chiara, quindi l'iscrizione era C. Pozzetti, e allora io ho preso il posto da mia sorella. Veramente, quindi è stato proprio così. E' stato un caso, però già col terrore di scrivermi in pittura, quindi mi sono iscritto nei disegnatori di architettura, perché questo era il mio senso, la mia voglia, non pensavo assolutamente di dipingere. E poi sono nate tante cose, cioè ha finiti gli studi un amico tutt'ora vivente, per me è un grande pittore, che è Pirro Cunigheberti di Bologna, mi chiama come suo assistente nella scuola di pubblicità, e quindi cominciò a fare grafica pubblicitaria, al che per perfezionarmi tento di andare, tento, ci vado, ma fu un tentativo sotto certi aspetti. Andai a Parigi, nel grande atelier di Cepo, che appunto è Severo, Pozzetti, era il nome d'arte, che era lo zio. E in quel momento lì capì che assolutamente non dovevo più fare grafica. E ho continuato l'architettura, e mi ero iscritto a Firenze. Poi, per questioni strane, e per tirare su due piccoli soldi, invece che fare pubblicità, giocavo a basket, e me ne andai a Venezia, e anche lì tentai di continuare. Gli studi, pur non sbienando nemmeno, anche se a Venezia c'erano dei grandissimi insegnanti di architettura, come c'era ancora il vecchio Michelucci a Firenze, quindi siamo a un livello veramente universale. Finito quella piccola esperienza di architettura, dissi, bene, faccio il pittore. Faccio il pittore. E... tentai di chiederlo al maestro Virgilio Guidi, il maestro che io ho amato di più di tutti, non come professore, come maestro, e come uomo, andai a fare non una prova d'ammissione, perché avendo fatto l'Istituto d'Arte avevo diritto dell'iscrizione, però eravamo una ventina, non di più, e il maestro faceva una specie di elenco, di richiesta dei nomi al suo assistente, che allora era Mandelli, un noto pittore oltretutto. E... quando arrivò a me, chiese se ero figlio di Mario, e nipote disse vero, perché allora lo chiamavano così. Io dissi sì, di tutti e due, di Seppo e di Mario. E allora dice non venire a perdere tempo in Accademia. L'Accademia, tu, senza saperlo, l'hai già fatta. Vieni a giocare a boccette, se sai giocare a boccette, con me tutti i mesi, alla fine di ogni mese. E alla fine di ogni mese mi incontravo con lui a giocare a biliardo, e lì lui mi spiegava le triangolazioni astratte che fanno una biglia, e addirittura diceva che le biglie bianche correvano molto di più delle rosse perché avevano la luce. Perché avevano la luce. E da qui, infatti, è stato un po' l'inizio del percorso. Tra l'altro, è molto bello vedere quando racconta di questa parentesi proprio legata allo studio. Ricordare questo grande maestro come una guida, come un insegnante, cosa che poi lei lo è stato negli anni, perché comunque la figura tutt'oggi, importantissima di un professore che deve guidare i ragazzi, che deve guidare gli alunni, credo che sia il fondamento proprio per dirigere i ragazzi nella strada giusta, cioè l'entusiasmo, la voglia, l'energia, la perseveranza, vengono tutti dati da una forza che dà l'insegnante. Tutti possono avere la voglia, pochi hanno il talento, ma se uno ha la possibilità di avere un grande insegnante che ti fa davate su quelle che sono le cose più importanti da percepire, da capire durante gli anni, questo credo che sia fondamentale. Lei l'ha dimostrato adesso ricordando il suo grande maestro che è stato veramente una lezione di vita prima di tutto, da proprio l'input e credo che chissà se magari questa idea lei l'ha perseverata nei suoi anni poi di accademia, perché lei ricordiamo ha insegnato a Orbino, ha insegnato a Firenze, a Venezia, poi a Bologna, quindi ha avuto un grande percorso comunque di professore di insegnante com'è stata la sua avventura comunque in giro per l'Italia veramente in grandi contesti importanti come i nostri insomma. ma io ho avuto la fortuna di insegnare prestissimo, ho insegnato più di 40 anni e per me è stata l'avventura che mi manca ancora, cioè stare con i giovani si impara e si invecchia meno precocemente e si impara a diventare un padre non nei riguardi dei giovani ma i padri nei riguardi dei tuoi figli impari tante cose che non sapevi ma l'importante è essere un insegnante ma è un professore l'insegnante vuol dire che sei uno studente tra gli studenti quindi sei aperto a capirli uno diverso dall'altro e soprattutto ad alimentare le diversità. Non esiste una scuola esistono complessi che si scontrano tutte le volte ed è questo il fascino del disuguale. Io ho amato sempre questo tipo di chiamiamolo tattica di insegnante cioè primo avere una forte personalità se ce la fai per poi per mettere in crisi lo studente che è di fronte in modo tale che non ci siano presunzioni storie no? E già artisti già fatti dopo un mese dopo la crisi cominci a essere anche tu studente con loro e quindi dividi ti autodividi se hai cento studenti in cento persone diverse tu stesso questa è la forza di un insegnante e io ho amato molto la scuola e devo dire ancora adesso mi manca e dove mi chiamano a parlare ad insegnare ancora qualcosa corro perché sento il bisogno ancora del dialogo in un momento appunto dove non esiste più la dialettica è vero assolutamente questo è un bellissimo cappello introduttivo se vogliamo chiamarlo così su tematiche che poi andremo a sviluppare meglio domani proprio per raccontare quelli che sono stati gli anni legati all'università alle scuole d'arte all'accademia quindi se siete dei nostri l'appuntamento è domani sempre per un nuovo capitolo ad affrontare insieme al grande maestro Concetto Pozzati quindi un saluto e a presto a presto